Ci sei? Allora Manola, stai pensando alla carta, giusto? Che carta stai pensando? Vedi qua, due di cuore, che mazzo mescolato, giusto Manola? Adesso, ascoltami, segui anche le carte così, ti chiedo una cortesia. Sì. Dimmi, numero tra 1 e 52 in metro, grande, piccolo, numero che è veramente più. 26. Anche, puoi farlo più grande o anche più piccolo, se vuoi, eh? Sì. Sicura, 100%. Tu adesso, se tu metti, sono tante le carte nuove? Sono tante, sì. Sono veramente tante, giusto? Sì. E non sappiamo dove si può trovare la tua carta, giusto, a qualsiasi, qua. Dovunque nella massa, giusto? È impossibile sapere, no? Ti chiedo, tu stai pensando in tre carte. O in tre carte. Adesso, tu hai detto una carta di miei colori. È il numero 26. Tutto casuale, la commenta, giusto? Guarda, tu stessa, conta, 26 carte, 25 carte, gira. Girate di faccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 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 20. Piano, piano. 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 Questa è la 26. Piano. 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 Grazie.